I premi Saint-Vençon per il giornalismo vengono consegnati ai vincitori dal Presidente della Repubblica. La cerimonia ha luogo nella Sala degli Specchi al Quirinale. Sono presenti numerosi uomini politici, i rappresentanti dell'amministrazione regionale valdostana e i maggiori esponenti del mondo giornalistico e culturale italiano. L'onorevole Gronchi consegna a Mario Missiroli il primo premio. Gli è stato conferito per avere onorato con i suoi scritti la professione giornalistica. Il premio internazionale Saint-Vençon, unico del genere in Italia, venne istituito nel 1949 dall'amministrazione della regione autonoma della Valle d'Aosta e della Sita. L'anno scorso il Capo dello Stato ha concesso l'ambito onore di premiare personalmente i vincitori e ha suggellato con il suo intervento il nobile significato della manifestazione. Dopo la cerimonia l'onorevole Gronchi esprime il proprio compiacimento per l'alta funzione del premio.